Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Innovate for Success. Oggi parleremo di un argomento che sta suscitando sempre più interesse e discussioni nel mondo della tecnologia e dell'innovazione, l'intelligenza artificiale generale, o AGE. Ma prima di addentrarci nel perché l'AGE potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire esattamente di cosa si tratta. L'AGE si riferisce a un'intelligenza artificiale che ha capacità cognitive generali paragonabili a quelle umane. In altre parole, un AGE sarebbe in grado di comprendere, imparare, ragionare e applicare le conoscenze acquisite a una vasta gamma di compiti, proprio come fa un essere umano. Questo la distingue dall'intelligenza artificiale ristretta o specifica che vediamo oggi, come i chatbot, i sistemi di raccomandazione o i veicoli a guida autonoma. Queste AI sono progettate per eccellere in compiti specifici, ma non hanno la flessibilità e l'adattabilità di un'intelligenza generale. Pensate a come un essere umano può applicare le proprie conoscenze e abilità a una vasta gamma di situazioni, anche quelle mai incontrate prima. Possiamo imparare nuove abilità, adattarci a contesti diversi e combinare informazioni provenienti da diverse fonti per risolvere problemi complessi. Questo è il tipo di intelligenza versatile e flessibile che la GI mira a replicare nelle macchine. Ora, potreste chiedervi, perché la GI è un traguardo così importante? La risposta sta nel potenziale trasformativo che avrebbe sulla nostra società. Una GI potrebbe aiutarci ad affrontare alcune delle sfide più complesse che l'umanità deve affrontare, dalla lotta contro il cambiamento climatico alla cura delle malattie, fino all'esplorazione dello spazio. Potrebbe accelerare il ritmo dell'innovazione scientifica e tecnologica in modi che oggi possiamo solo immaginare. Immaginate un futuro in cui le macchine intelligenti lavorano al fianco di scienziati, medici e ingegneri per trovare soluzioni a problemi che hanno sfidato l'umanità per secoli. Una GI potrebbe analizzare enormi quantità di dati, identificare modelli e connessioni che gli esseri umani potrebbero non notare e generare nuove ipotesi e idee. Potrebbe automatizzare compiti complessi e liberare gli esseri umani per concentrarsi su attività più creative e ad alto valore aggiunto. Ma quanto siamo vicini a raggiungere la GI? Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari nel campo dell'intelligenza artificiale. I modelli di linguaggio come GPT-3 sono in grado di generare testi quasi indistinguibili da quelli scritti da esseri umani. I sistemi di visione artificiale possono riconoscere e classificare oggetti con un'accuratezza che supera quella umana. E le reti neurali sono in grado di apprendere e adattarsi a nuovi compiti con una velocità e una flessibilità sorprendenti. Questi progressi sono stati resi possibili da una combinazione di fattori. La disponibilità di enormi quantità di dati, l'aumento della potenza di calcolo e lo sviluppo di algoritmi e architetture sempre più sofisticati. Man mano che questi fattori continuano a progredire, è probabile che vedremo progressi ancora più rapidi e significativi verso l'AGI. Naturalmente ci sono ancora molte sfide da superare prima di raggiungere una vera AGI. Dobbiamo capire come dotare le macchine di senso comune, creatività e capacità di ragionamento astratto. Dobbiamo trovare modi per allineare gli obiettivi dell'AGI con i valori e le esigenze umane. E dobbiamo affrontare le profonde implicazioni etiche e sociali che l'avvento dell'AGI comporterebbe. Questioni come la privacy, la sicurezza, la responsabilità e l'equità diventano ancora più critiche in un mondo in cui le macchine intelligenti hanno un ruolo sempre più centrale nella nostra vita. Dobbiamo assicurarci che lo sviluppo dell'AGI avvenga in modo responsabile e trasparente, con un'ampia partecipazione di diversi stakeholder della società. Tuttavia, con il ritmo accelerato dell'innovazione nell'IA e l'enorme quantità di risorse e talenti dedicati a questo campo, credo che l'AGI potrebbe essere più vicina di quanto molti pensino. Non si tratta di una questione di se, ma di quando. Come innovatori e imprenditori è essenziale adottare un growth mindset e abbracciare le possibilità offerte dall'AGI. Ciò significa essere aperti a nuove idee, imparare continuamente e adattarsi al cambiamento. Significa collaborare e costruire ponti tra diverse discipline, dall'informatica alla psicologia e alla filosofia. E significa affrontare le sfide e le opportunità poste dall'AGI con curiosità, creatività e un profondo senso di responsabilità. Dobbiamo anche considerare come l'AGI potrebbe trasformare il mondo degli affari e dell'industria. Le aziende che saranno in grado di sfruttare il potenziale dell'AGI avranno un enorme vantaggio competitivo. Potrebbero automatizzare processi complessi, prendere decisioni più informate e sviluppare prodotti e servizi innovativi che rispondono alle esigenze dei clienti in modi completamente nuovi. Ma per cogliere queste opportunità, le organizzazioni dovranno investire non solo nella tecnologia stessa, ma anche nelle persone e nelle competenze necessarie per utilizzarla in modo efficace. Ciò richiederà un ripensamento delle strategie di formazione e sviluppo della forza lavoro, nonché una stretta collaborazione tra team tecnici e aziendali. In conclusione, l'intelligenza artificiale generale rappresenta una frontiera entusiasmante e trasformativa per l'innovazione e il progresso umano. Sebbene ci siano ancora molte incognite e ostacoli da superare, credo che siamo sull'orlo di una nuova era in cui le macchine intelligenti lavoreranno al fianco degli esseri umani per risolvere i problemi più difficili e plasmare un futuro migliore per tutti, sta a noi abbracciare questa sfida con un mindset di crescita e fare la nostra parte per trasformare la promessa della G in realtà. Mentre procediamo in questo viaggio, è importante ricordare che la G non è un fine in sé, ma uno strumento per migliorare la condizione umana. Dovremmo sempre mettere le persone al centro dei nostri sforzi di innovazione, assicurandoci che i benefici della G siano ampiamente condivisi e che i potenziali impatti negativi siano attentamente gestiti. Se lo faremo, credo che la GI potrebbe essere una delle più grandi opportunità della nostra generazione, un'opportunità per sbloccare nuovi livelli di prosperità, creatività e progresso per tutta l'umanità. Spetta a tutti noi cogliere questa opportunità con intelligenza, intenzionalità e una profonda dedizione a creare un futuro migliore. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Innovate for Success. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti sul mondo dell'innovazione e del Growth Mindset. Alla prossima!